La storia tra Barbara De Santi e Ernesto Russo si è conclusa in un modo non proprio felice a uomini e donne. Pare che l'armonia tra loro avesse già iniziato a vacillare negli ultimi tempi, ma l'ultima vicenda ha davvero fatto arrabbiare Ernesto. Lui ha descritto l'accaduto come, molto grave. I disaccordi recenti tra i due sembrano aver scavato un fossato troppo ampio da colmare. Uomini e donne. Ecco perché, è finita tra Barbara e Ernesto. Durante l'ultimo episodio televisivo, abbiamo visto un video che mostrava gli ultimi sviluppi. Barbara ha cercato di parlare faccia a faccia con Ernesto. Ma la discussione ha preso una brutta direzione e lui ha scelto di interrompere la conversazione e di andarsene, lasciandola sola. Tornato in studio, Ernesto ha confessato di sentirsi in trappola e ha rivelato che Barbara aveva contattato sua nipote. Un gesto che lui non ha potuto accettare. Dopo questo episodio, descritto come, troppo grave, è stato chiaro che la storia tra Ernesto e Barbara era finita. Quando Barbara è entrata in studio, ha fornito la sua interpretazione dei fatti, dicendo che la nipote di Ernesto le aveva dato il suo numero di telefono, facendole pensare che volesse comunicare con lei. Ernesto ha però sottolineato che i dettagli della vita privata della sua famiglia non dovrebbero riguardare Barbara. La reazione del pubblico è stata netta. E sembra che molti si siano schierati dalla parte di Ernesto. Anche Gianni Sperti non ha usato mezzi termini, criticando duramente il comportamento di Barbara, considerandolo inappropriato e una vera e propria violazione della privacy di Ernesto. Tendi all'autodistruzione, il commento di Gianni a lei. Le critiche non si sono fermate qui. Gianni ha etichettato Barbara come una persona che tende all'autodistruzione, difficile da sopportare e che esaspera gli uomini fino al limite. Secondo lui, Barbara non sembra aver cambiato atteggiamento nel corso degli anni. Il parere generale è stato piuttosto severo nei suoi confronti. Ritenendo che si sia messa in cattiva luce da sola. Complicando una situazione già di per sé delicata. Infine, è evidente che Barbara e Ernesto hanno deciso di dire addio alla loro relazione. Una conclusione definitiva che mette fine a ogni speculazione sul loro futuro. insieme. 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 insieme.